L'obiettivo è quello di vincere tutte le partite e portare a casa tutti i punti da qui fino alla fine della stagione e per noi queste ultime partite le giocheremo come se fossero delle finali. Io personalmente sono cresciuto molto grazie al mister, allo staff e a tutti i componenti della società e come crescita ho avuto anche la possibilità di andare con la prima e per me è stato molto importante. Giocare per Roma City e allenarsi in un centro come questo ti dà la possibilità di crescere giorno dopo giorno e per questo ringrazio il club.